buongiorno ciao a tutti mi chiamo mauricio helves ho solo dieci minuti per motivarvi a lavorare continuare lavorare solo per trovare un posto un posto di lavoro che non sembri un lavoro particolarmente questi sono i dieci passi che io ho dato per diventare uno sviluppatore freelance di wordpress dopo di avere fallito in due tentative oppure devo dire dopo di avere imparato due grandi lezioni di come non dare questi passi dopo di 18 anni di carriera posso dire che questo lavoro il mio per me non è un lavoro ma una passione una passione che mi fa svegliarmi con un sorriso nella faccia pieno di energia e che mi motiva sempre a lavorare più solo adesso senza ulteriore ritardo vi spiegherò i dieci passi che io ho dato per diventare uno freelance con wordpress prima di tutto dobbiamo risparmiare soldi nessuno vuole saltare in piscina senza sapere se acqua o meno e questo è lo stesso se vogliamo cambiare la nostra carriera lavorativa per questo dobbiamo risparmiare almeno sei mesi di soldi in questo periodo abbiamo abbastanza tempo per provare a fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per trovare nuovi clienti anche abbiamo di risparmiare dinero extra ma solo per caso di emergenza nel caso che va storto qualcosa possiamo usare questo tempo per recuperare il nostro lavoro oppure trovare un nuovo posto di lavoro bene tutti sappiamo come risparmiare soldi certo ma adesso viene il passo più terrificante che essere sul bordo prendere coraggio e saltare e pregare che la piscina acqua fa il primo passo il più terrificante non so come sarà qui a italia ma in spagna sono 15 giorni illegali che dobbiamo dire al nostro capo all'azienda che vogliamo lasciare il nostro lavoro fisso dovete cercarlo qua quanti giorni sono e poi se vuoi essere un po più prudente puoi prendere un congedo non retribuito tutte queste sono parole nuove per me per questo lo leo un congedo non retribuito grazie grazie e poi questo è opzionale ma se vuoi puoi spiegare i motivi del perché stai laggiando il tuo lavoro fisso al tuo capo alla tua azienda io l'ho fatto così è la sorpresa che dopo di tre mesi di lavorare con loro dopo di cinque anni diventarono i miei clienti con progetti molto interessanti l'azienda per dove io lavoravo come a matteo e adesso come non i clienti e per ultimo troppo importante sempre fai le cose bene perché non si sa mai se avrai bisogno di chiamare la stessa porta in un futuro sempre fai le cose bene la comunità di wordpress il mondo di wordpress è piccolissimo sembra grande però è piccolissimo bene già sappiamo come risparmiare soldi già abbiamo fatto il passo cosa abbiamo fatto abbiamo lasciato il lavoro fisso ma già siamo qua il primo passo che dobbiamo fare sviluppare la nostra marca dobbiamo scegliere con intelligenza il nome che useremo può essere il tuo nome personale oppure un nome fictizio il mio caso è il mio nome personale questa è la mia marca io mi chiamo Maurizio Helves la mia marca Mau Helves troppo intelligente mi potete trovare sull'internet youtube instagram twitter website sempre con la stessa marca mauhelves.com scatola si chiama questo signo come si chiama questo signo chiocciola mauhelves everywhere ovunque e poi dopo di aver scelto questo nome devi assumire un graphic designer questa persona ti aiuterà a creare il logotipo la tipografia i colori della tua marca importantissimo e dopo di questo dobbiamo creare un sito web normalmente usando wordpress certo è per questo che siamo qua no bene beh può essere joomla anche open source va bene joomla o drupal bene in questo sito web tu devi spiegare i tuoi nuovi servizi oppure prodotti che offri nel tuo progetto della tua vita importantissimo avere un sito web bene finora solo tu il tuo ex capo l'azienda e la tua famiglia conoscono del tuo progetto è ora di promuoversi ma devi stare attento perché solo abbiamo un proiettile useremo questo proiettile per mandare una sentite bene una sola email a tutti i nostri contatti personali abicura con le cpdr contatti personali in questa email breve concisa dobbiamo scrivere e scrivere no si scrivere il passo che stiamo dando i nostri nuovi servizi oppure prodotti che offriamo nel nuovo progetto e poi lo mandiamo raccontando il tuo progetto bene per fortuna se tutto va bene questo email arriverà a 100 persone che più o meno la media di persone che conosciamo tutti ma se ognuna di queste 100 persone conosce altre 100 persone il nostro email avrà la possibilità di raggiungere 10.000 possibili clienti per questo che prendi il tuo tempo scrive correttamente l'email e poi scatta la tua prima campagna di marketing di email bene perché è importante creare contenuto web non solo scrivendo in un blog ma tu puoi essere un instagramer un youtuber quello che fai tu importantissimo perché primo perché ci farà migliori professionisti bene sarà a volte la possibilità di cercare un punto per finire un articolo e questa nuova conoscenza dopo la possiamo usare per dare nuove soluzioni ai nostri clienti due rafforzerà la tua autoestima vi posso dire che è bellissimo svegliarti nella mattina e trovare un email oppure un commento di un utente di una parte del mondo che ti dice grazie maurizio ti ringrazio perché grazie al tuo articolo ho soluzionato un problema che avevo è bellissimo ma è che essere esposti anche creerà di persone odiosi e anche loro ti scrivono e deve essere forte per confrontare per affrontare queste situazioni e ultimo posizionare la tua marca nei motori di ricerca come ad esempio google per questo è importante creare contenuto web non sei solo lì fuori ci sono un sacco di belle persone che hanno gli stessi interessi che hanno gli stessi interessi loro si riuniscono una volta al mese e si fanno chiamare wordpress meetups ce ne sono una centinaia di meetups intorno al mondo esattamente 780 wordpress meetups per essere più preciso in 104 paesi questo è il posto perfetto per iscriverti per imparare dai migliori professionali della tua comunità e perché no perché tu puoi essere il prossimo speaker in questa in questa meetups e credetemi che questo è un passo piccolissimo ma che ti può cambiare la vita diventare uno speaker e se non hai una meetup nella tua città questo è il posto giusto perché ci sono tantissime persone che ti possono aiutare a creare la meetup numero 781 e tu sei l'organizzatore bene vai ai wordcamps davvero devo spiegare i vantaggi di venire a un wordcamp abbiamo i migliori speaker che condividono le loro conoscenze sul palco se guardate intorno a te abbiamo amici di tutta l'italia anche dall'estero come io poi lì fuori abbiamo delle migliori aziende che lavorano con wordpress ogni giorno e vi raccomando di parlare con loro e anche il migliore posto per partecipare della comunità come partecipante come volontario organizzatore e perché no come un prossimo speaker e così complimenti a tutti voi per essere qua e aspetto di rivedervi l'anno prossimo a work in verona 2020 perché ci sarà vero no? avrà? bene questo è l'annuncio conoscete la frase l'unità fa la forza è quello che dobbiamo fare non dobbiamo essere da solo io so che sei timido è per questo che abbiamo il talk per evitare questa timidezza vai conoscere le persone vai fuori fai il piccolo sforzo di cominciare una conversa qua si può trovare amici partner commerciali tutti l'importante è parlare andare lì fuori e parlare con le persone inizia tu la conversazione e questa è una casualità che ieri nel Contributor Day abbiamo pubblicato queste talk di Francesca Marano forse la conoscete forse no ma lei ha parlato quest'anno a Berlino 2019 e l'arte del networking e ci da tantissimi consigli di come cominciare una conversa specificamente per fare networking non mi preoccupare per l'indirizzo perché dopo condividerò le slides nel mio account di Twitter che vi raccordo ah no, non ricordo è per ultimo Passo numero 9 è importantissimo se vuoi sopravvivere come freelance essere sempre aggiornato con le ultime tecnologie anche con le notizie intorno a Wordpress grazie a Wordpress abbiamo milioni di siti web in tutto il mondo in diverse lingue che ci possono aiutare a imparare di più su di questa tecnologia abbiamo il miracolo di Wordpress TV una piattaforma dove si trovano i video di tutto il mondo dei Wordcamps anche dei meetups gratuitamente poi abbiamo corsi online ci sono alcuni che sono economici altri no ma lo più importante è che in generale hanno una buona informazione dove imparare di più e quello che voglio dire con questo punto è che la conoscenza è lì fuori tutto dipende di noi dobbiamo essere professionisti autosufficienti bene se ci arriviamo a questo punto significa che già abbiamo clienti è ora di avere cura di loro quello che dobbiamo capire è che i tuoi clienti non sono i tuoi clienti ma i tuoi partner commerciali si? questa è una frase difficile che non la ricordo la leggerò che dice se il tuo cliente ci riesce a tua volta ci riesce anche tu si? dobbiamo capire questo conquista la loro fiducia se hai promesso un deadline ai tuoi clienti vi prego di cercare di uscire la data si? mantieni una comunicazione fluida con loro e fai sapere sempre lo stato del progetto e io so che a volte ci sono progetti che non sono un letto di rose ma noi siamo lì sempre con un sorriso una attitudine positiva per mantenere la relazione con il progetto anche con il cliente in ottimo stato si? bene? perfetto per concludere dobbiamo risparmiare soldi fare il passo più terrificante creare la tua marca fatti conoscere con un solo email non fai spam vi prego creare un blog altre cose Instagram, Youtube, quello che vuoi vai a Meetups a WorkCamps fai networking continuano studiando imparando tutto il tempo ed ultimo a vicura dei tuoi clienti mio nome è Maurizio Gelbes sono ingegnero informatico sviluppatore fili di Wordpress brand ambassador di Saguern e mi potete trovare come sempre come mauhelbes.com grazie mille